nonna adesso ti faccio una domanda facile ti stai divertendo? chi? tu? no mi sto facendo due palle che non sei come una casa! non ho questi capelli! nonna allora insomma se stai a divertì! ma non mi sto divertendo neanche per il cazzo! mi sto facendo due palle che non sei come una casa! ma dove devi andare la scusa? ma vaffanculo va! quando cazzo vai che è tutto chiuso? dicendo vai ecco ti metti qui per fortuna guardi un po' di piante! le mucche se vedono queste che se ne sono maniate! che ne so almeno qui qualche volta avete le mucche tanto carucce! adesso le mucche non ci sono più se le saranno maniate! meno che se le ha maniate la corona! almeno se hai maniate le mucche che ne vedo più a questa corona! dà te la calmate non rompe le palle! vabbè insomma no ti stai a divertì tanto! mi sto tanto a divertì che sono talmente incazzata! vabbè nonna dai! facciamo la finita! voglio uscire! 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 ma così non se ne può più! ma che ci devi fare! che c'è tutta questa fretta! dove devi andare? e tu cazzo vai! afficcire! dove devi andare? scusate! da nessuna parte! dove vai? non devi andare a nessuna parte! ci manca pure guardare i capelli! faccio schifo! vabbè nonna non devi smaniare! cerca di tollerare la quarantena! ma vaffanculo in quarantena ancora c'è sto io stiamo a casa è come se stessimo in quarantena peggio non posso più uscire non posso andare dal parrucchiere madonna santa vedo l'ora che finisce sta parrucchia non ti lamenta fai finta che stai agli arresti domiciliari stai tranquilla adesso domiciliari già c'è sto appunto non vado mai da nessuna parte scusa nonna ma adesso dove pensi di andare affanculo tu adesso lo sai che fai una bella cosa visto che purtroppo ormai stiamo alla fine quando arrivi a casa ti straghi sul letto e metti in posizione da morto così t'alleni ma tu t'ha vinto il culo la posizione di morto se ci mettessero chi va rotto il cazzo nonno ma dove devi andare guarda qua che bel verde no ma che devi fare ma quale verde guardati ah il verde mira ma che caso te frega del verde che adesso tutti stiamo al verde sì nonna mira mira che facciamo come quello da che era che diceva mira 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 invece da di guarda mira 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 un po la natura ma mira che vuoi vedere la natura facciamo che adesso sembra assagliare perché non crei una sorta di fusione tra l'essere umano e la natura ma la natura non esiste sì nonna però è importante che ci sia questa fusione possibile che non capisci un cazzo martì eh ti ho detto che la natura piano piano non c'è più perché c'è l'uomo che la massacra no no rimani però sulla mia domanda sul punto ma quale punto ma fa un culo no no sto dicendo è giusto che tra l'uomo e la natura ancora ci sia una fusione t'ho detto 50.000 volte non le rompe il cazzo la natura è tanto brava no 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 fa una bella cosa aspetta vai nel bosco e ti vai a fondere con qualche albero ma l'albero rilasci in pace non ti crei una fusione in diretta ma che cazzo è dai crea questa fusione ma quale fusione la fusione ma non nomina mai l'uomo con la natura che l'uomo ammassacra la natura e tu che fai io per conto mio la natura ci tengo e non mi metto a ammassacrare tutto come fai